benvenuti ad un nuovo video di 12 e di gigolam in questo video vogliamo di bayernetta da xbox di 60 cercato da me vogliamo farvi vedere la temperance della virtù cardinale cioè il secondo boss del gioco no vediamo delle macchine sfiede del bayernetta no bene cantiamo quando lui poggerà perché non vuoi avere un punto c'è l'asso perché c'è fatto un bacio perché c'è fatto un bacio di restante è più difficile di amore è più difficile di amore è più difficile di amore e noi scriviamo attenti a qualche specie di anima attenti alle macchine ora dovete farmi un giro fino ad arrivare a questo punto e voi dovete colpire questa fotocamera di te in realtà non riuscirà a dare poterlo perché non sono atti per dei demoni invocati da una anima e la sua macchina in questo caso sono delle braccia che si tolleranno tenteranno anzi, in questo caso non stacca la montagna scusate il numero di celulare pronto pronto scusate il numero di celulare che si è agganciato giù a giù che mi sono messo con pelle per farlo ma compagno non sono molto schifato per esempio, questa specie di anime che se più che farvi danno vi rende la forza questo giusto, 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 giusto perché la forza è un schio cardinale e il confuggerà. Qui come prima, lo vedremo, lo vedremo anche per oggi. Ecco, 970 è il massimo. Qui dovete seguire voi fasce diversi, fino ad arrivare a altri fessi continui, e di tutti questi si dà l'armatura, si tenterà un po' di ventura. E ora lo vedremo, si fa calda la barche, se senterà un po' di ventura. Qui vediamo con una bella faccia, la bella faccia di sempre, senza la sua maschera di spiega. E ora, sul momento finale, ci ho guardato un po' di ventura. E ora, sul momento finale, ci ho guardato un po' di ventura. bene, anche se va un po' scritto, questa è la faccia di sempre. Ora, la baglionetta per fare una fine veramente divertente. E' quella che mi ricordo io. Ah ok, dovrebbe essere questa. Guardate, guardate, c'è la statua dell'angelo, fa la pipì, la pipì che c'è da benzina, fa il nudo. D pourtant... E' così, con i tehi tacchi C'è la destinche a mia anemia E' la cavona e così abbiamo sconfitto anche il temperament e per oggi è tutto, ciao da GigiGelamp